Andrea partiamo dalla trasferta di domani contro il Cittadella. Il Pescara probabilmente l'affronta nel miglior momento della scuola di Venturato perché arrivano da un successo netto contro il Lecce e dal bel colpo esterno di Brescia. Beh sì, è una partita fondamentale come tutte, del resto da qui alla fine saranno importanti, sarà importante l'approccio. Credo che stiamo lavorando bene anche se con qualche assenza, però insomma i ragazzi stanno bene e vedo che comunque c'è l'approccio giusto. Facciamo un attimo il punto sugli infortunati, come stanno Brugman, Balzano, Campagnaro e Canutè? Ma Brugman e Balzano sicuramente hanno un problema muscolare, in questo momento penso che Balzano recuperi a stretto giro, invece per Gas dovremmo aspettare la sosta sicuramente. Quindi diciamo che Balzano potremmo vederlo con il Cosenza nell'anticipo di venerdì? Ci sono buone possibilità. Campagnaro e Canutè? Canutè è più lunga, la situazione è un pochettino più complicata, anche perché è una zona molto delicata quella del Polpaccio, quindi insomma sicuramente possiamo valutare per fine mese il tutto, mentre Ugo ha provato a esserci anche per domani, ma diciamo anche per precauzione è stato consigliabile evitare. Io credo che possa essere a disposizione per la prossima. Andrea, questa domanda te l'abbiamo fatta tante volte, però adesso stiamo entrando nel cuore della stagione. Rivedi un po' in questo Pescara quello tuo della promozione in Serie A? Ma sai è una... Sia da giocatore che da dirigente, perché tu ne hai 22 di campionato. Sì, io ne ho 22 da giocatore e uno da dirigente. Il mio discorso, quello che faccio sempre, è difficile fare i paragoni. Ogni squadra ha la sua anima, una sua identità, questa ha un'identità che può fare molto bene. Io credo che sia costruita da ottimi giocatori, ma anche da un bel mix che si è ben strutturato durante tutto il cammino della stagione. Credo che abbia ogni carta in regola per far ben sperare i tifosi. Grazie.